Thanksgiving è un festival di coseccia. Tradizionalmente è il giorno per fare coseccia e coseccia in generale. È tradizionalmente una celebrazione di Norte America, un giorno di festa offizialmente combinato con una celebrazione con un origine religioso. E fece exacto non sta confermare, però na St. Augustine, la ciudad più antica dell'estado americano, Florida, avvenerà la prima Thanksgiving banda di implantazione di Plymouth nel 16-21. Oggi è il giorno di festeggiare la Thanksgiving nel Canada, il giorno di 2 di lunedì e il giorno di 4 di novembre è il giorno di festeggiare l'America. Per il caffino, la famiglia non sta ben giunto, per un cena. La maggiori volte è un plato più ampio che sta concentrando un o più di roast turkey, questa è la calacuna. Combina un banda con l'Oyster stew, cranberry sauce, gravy, dressing, crema di aspargas, dips, snowflake potatoes, baked carrots, hot rose, salata di frutta, mince meat pie, fruitcake, candies, grapes, apples e french drip. E' un poffi. Plato e combinazione americano, ma già tradizionale. E' l'aspetto familiare, con cena sta molto parecita nella scena di Pasqua e fin di anno, una famiglia non sta ben giunto per celebrare. Contrario a Pasqua, ribadìa di Thanksgiving non sta dona un altro regalo. Sta molto bene, con un certo momento di scena, sta reflejarà con e anno a Pai e sta agradecer per tutto il cos' positivo qua passa. E' l'anfitrione, hopi besta, ha si un oration, pro meco comincia come, anche coi nota obbligatorio. Sayama e dia a kitambe, Turkey of Poultry Day.